In Iraq la battaglia per riconquistare Mossula ha ripercussione in tutta la regione. Migliaia di persone stanno scappando dai propri villaggi per salvarsi dagli scontri tra l'isile e le forze kurde Peshmerga. Tra questi anche centinaia di abitanti del villaggio di Abu Harboa vicino a Bashika, dove si trova una via considerata strategica per il rifornimento del sedicente Stato Islamico. Abbiamo lasciato il villaggio, raccontò un abitante. Sono riuscito a scappare superando casa dopo casa. Da noi la situazione era difficile, niente cibo, non c'era acqua né elettricità. Una vita molto difficile. Dall'inizio dell'offensiva verso Mossula, ora sotto assedio, sono oltre 10.000 le persone fuggite dalle proprie case. Circa 3.000 hanno trovato rifugio nel campo di Alol, nel nord-est della Siria. Altre 1.000 persone restano invece bloccate in una zona desertica tra l'Iraq e la Siria, ad Ashisha, in condizioni disperate. Qui stiamo morendo di fame, ci sono bambini che stanno male. Se non ci lasceranno entrare nel campo, la gente comincerà a morire, abbiate pietà. Le Nazioni Unite stanno intanto cercando di allestire nuovi campi profughi. Si prevede che nei prossimi giorni, con l'intensificarsi degli scontri, continuerà l'esodo. Nei campi a confine con la Siria potrebbero presto cercare rifugio fino a 100.000 persone.